La condivisione di emozioni e sensazioni in uno scenario dalla bellezza unica. Questo è il senso più profondo del Limbo Festival che torna alla tenuta del ciocco a Barga la prossima estate. La terza edizione della manifestazione in programma dal 7 al 9 luglio è stata presentata al grande Universe di Lucca nel corso di un evento al quale ha partecipato anche il sindaco Mario Pardini. Anche quest'anno la musica sarà la protagonista del festival con DJ provenienti dall'Italia e dall'estero. Ma come già nelle precedenti edizioni ci sarà spazio per molte altre attività. Dalla meditazione allo yoga, attività all'aperto come trekking con alpaca, un meraviglioso animale. Poi ci saranno delle masterclass, dei talk, quindi è una cosa sia per il corpo perché ovviamente si balla, la musica è parte fondamentale del festival però anche per la mente. L'obiettivo finale del festival è quello di far ritornare l'essere umano al centro di tutto nella consapevolezza che l'umanesimo di cui l'Italia è stata culla e sorgente sarà lo strumento fondamentale per affrontare la rivoluzione tecnologica che ci aspetta. Il parco del Ciocco è un posto meraviglioso in Toscana dove puoi veramente disconnetterti e tornare in quella che è una dimensione un pochino più umana. E' un evento human center, cerchiamo di riportare un po' l'uomo al centro di tutto. Insomma un'occasione per rigenerarsi in un contesto naturalistico eccezionale ed è probabile che il successo delle scorse edizioni venga superato. In poche ore è già andato esaurito il pacchetto chalet del festival. Grazie a tutti.